Cambia le dimensioni. Che cos'è la trasfigurazione? Commento, è un fenomeno di teleplastia per il quale uno strumento durante una transa incorporazione si trasfigura nel viso e talora cambia le dimensioni del corpo assumendo le sembianze di un'altra persona. Chi scrive molti anni fa fu testimone di un fenomeno di teleplastia per cui la medium nel giro di qualche minuto assunse sembianze che sembrarono sovrapporsi alle sue. Più avanti nel tempo assistette in casa di Ada Moi alla parziale trasfigurazione del tramite Domenico Pollice che per qualche minuto assunse le sembianze del piccolo corpo del frate Leopoldo Mandic 1866-1942 conosciuto come l'apostolo del confessionale.